Quando leggiamo questa scritta, l'Ilva ha ucciso mia madre, vengono davvero i brividi. In media, in ogni famiglia tarantina, c'è un ammalato di cancro. Per Taranto ho sempre lottato. In 21 anni di attività giornalistica ho combattuto contro l'Ilva, contro il mostro. Ho combattuto contro quella classe politica asservita e venduta all'Ilva ieri e all'ex Ilva Acciaierie d'Italia oggi. Per questo, il 12 giugno, chiedo la vostra fiducia. Per questo, chiedo a voi di barrare sulla scheda elettorale il nome Luigi Abbate. Un'altra croce sul simbolo Taranto senza Ilva. Ve lo chiedo in nome del popolo inquinato e del popolo ammalato.